Ben trovati e ben trovati con 94. Allora, una piccola premessa prima di inizia la story quest di Navia. Diciamo che non ci avrò il tempo di fare un cazzo questa settimana, quindi mi dispiace ma... A meno che al di fuori di qualcosa che riesco a fare al volo, purtroppo sul canale esce poco un cut, niente per circa la settimana di Natale, probabilmente un pezzetto di quella dopo, prima del Capodanno. Motivo semplice, c'ho una persona con il Covid in casa e quindi devo occuparmi di quella cosa, di quella persona, semplice. Non è una cosa assurdamente, come dici, assurdamente a livello eccessivo, nel senso che devo stare 24 su 24 in allerta, però... Lo fai mettere a Natale e saltato, vabbè, per noi, vabbè, sti cazzi, pazienza, capita. Quindi ciccia, story quest di Navia, speriamo sia una bella story quest, non ho visto il video su YouTube, perché sono stato intelligente, e ho detto no, fermate, sicuramente c'ha a che fare con qualcosa. E andiamo a farla. Ah, era fuori... Oh, siamo pure qua vicino, che culo. E se sentite la mia voce strana è perché sto da stamattina con una mascherina indosso e quindi sto senza fiato, sperando che non sia peggio. Però sono negativo al momento, quindi chi lo sa. Un po' di giorni potrei essere positivo. Ne dubita. No, Ibao, e poi Paimon. Yo. Questo nome è... Navia! Navia! Sento poco, non sbaglio. Ah, perché c'ho le cuffie basse. Eh, c'eravamo lasciati abbastanza sul aiutato a ricostruire Fontaine, sta cercando di ricostruire Poisson e... Lei ha perso, penso, più di tutti. All'interno di questa storia di Fontaine. Oraci. Po' mi dispiace vedere la grafica bassa, ma vabbè. E stanno dando pure dei fondamenti, come si dice, del denaro alle persone che sono state affettate, che hanno subito il disastro. Lei, nonostante la corte abbia dato comunque una... Un... Ma cazzo si dice? E... Una cosa per i disastri... Il denaro del disastro, lei ha deciso che anche spina di Rosola debba... Ma sta situazione fianziare non è granché. Non lo so, stai pagando per tutti. Ma... Non c'è niente scritto che non c'è. Non c'è niente scritto che non c'è. Ah, quindi c'hanno i nomi in codice? Beh, è più sempre un'organizzazione un po'... Aiuta tanto la comunità, però se sempre dice... Sembra un po' l'Oscar, diciamo, ma neanche l'Oscar. È una cosa che... Secondaria, diciamo. C'hanno la loro barca? Beh, ci avrebbe senso. Nel filmato c'era la barca. Sì, nel filmato finale di Fontena c'era la barca. Sai che vorrei... Eh... Eh... Mio Oyovers, se mi stai sentendo... Mio Oyo... Oyovers, ecco Oyovers, come se... Oyovers... Una galleria con i filmati. Una galleria con i filmati per cortesia, se me lo fai fare. Me lo fai, per favore. Così uno non deve per forza andare a vedere YouTube, per forza. Le tre linee del battello... Dei battelli, vabbè, dei traghetti, sono chiamate attraverso... Per il nome delle famiglie. Per alcune famiglie. Callas e Navia... Clementine, vostro nome... Ah... Navia. Scusami. Callas, Navia... Clementine era il nome della madre che usava la madre. Aspè, quindi Navia è il tuo cognome? Oh, no, 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 non lo so. Ah, perché... E la maggior parte delle persone non usano questo come un davvero e propria comunica. Eh, ancora sta ogni tanto su sta storia del padre. Boss. Aneki! No, Aneki è... È Beido. Beido la chiami Aneki. Anego, no, Aneki. Anego. Anego. Braving the ties together. Ovvero affrontare le onde insieme. Un po' piccolina come qua. Ecco, in effetti sì. Forse hanno lavorato più sta storia della madre. Paimon, sei una deficiente, è chiaro. Paimon non mi piace che continuino a fare la comic relief o la deficiente del gruppo. Cioè deve essere... Allora, potrebbe essere anche fatto apposta del tipo... Tanto non è umana, quindi non capisce come regolasse. What the fuck? Perché è partito da solo il testo? Non c'ho le mani sul controller. E il padre era il lavoro della cosa, mentre la madre era più gestionale. La texture, vabbè. Mo' voglio veramente controllare quanto pesa il gioco. Si chiede se Poison fosse ancora... Quella che è la madre possibiva. Ah, una bella frase. Cioè se è una cosa, è una cosa. A meno che se gli dai un nome, la cosa diventa una cosa nuova. Poverina. L'ipotesi è che uno, finalmente... Oh, che domande del cazzo gli devi fare al protagonista? Cioè, ti mancano? Certo che gli mancano. Ma non ho scelto però. Che bello che ci hanno fatto sta scintilla negli occhi. Ma da una parte... Cioè, allora... Sì, vabbè, è diventata cavo di questa organizzazione. Cioè, il cavo è sporco. Io ho paura che sto cavo si stia... Mangiando. De nuova Poison, secondo me, è identica a prima. Eh, chi lo sa. Vabbè, come amici possiamo fare solo una cosa sola. Stai accanto. Se ha bisogno. Ci stiamo sempre. Devo fare una cosa... Ok. No, prima che mi sei intreccio a sta roba. Questo è il nostro dovere da amici. O più. Non lo so se ci avrà cose maggiori come... Lì, dialogo diverso quando ce l'hai. Sembra uguale. Strano che tutta la cosa che c'è stata non c'è stata un po' di ruggine. Ah, non c'è. Florent. Questi baffi. Siamo a testa Little Italy. Però è brutto che non ci siano mai situazioni dove... Che ne so. Se hanno bisogno di una cosa... Non mettere come si diceva. Un conforto fisico, cosa di dettaglio. Che ne so. Una pacca sulle spalle. L'atto stesso, un abbraccio, una cosa del genere. Non c'è mai stato nulla. Ma voi ce l'hai là? Perché ce l'hai lì la visione? Lì che ce l'aveva là la visione? Ce l'aveva là la visione? Non ce l'aveva dietro. Sì, ma già che c'eravate potevate sistemare le cose. È possibile che la corte di Fontaine non vi può dare una mano a aggiustarla, a metterla in maniera decente? Non c'erano, ma già che la corte di Fontaine non vi può dare una persona a aggiustarla. Ah, quindi le tre... Ah, quindi sì, è vero, giusto, giusto, giusto. Avevano detto che era stata la sua famiglia a fondare le tre linee. Navia, Callas e Clementine. Quindi padre, madre e figlia. Tesoro, ma quanti cazzo di anni hai? Ci avrei sui vent'anni, presumo, venticinque, massimo te ne do ventiquattro, venticinque. Sei giovane, perché sei giovane, ma... Cioè, com'è... Ma dove è stata costruita sta roba? È così recente da avete dato il nome a te. Considerando che ce n'è una che è crollata. Di... Ok. Ho capito, ma sei sempre tu fig... Su loro figlia. Che fai, non c'è stai nella statua. Eh... Hai dato una mano a salvatutti. E soprattutto durante l'apocalisse vera e propria stavi con la barca a pialli. Magari... Beasley è arrivato dopo con la barcona gigantesca, eccetera, eccetera. Ma sei tu che sei partita. Ehm... 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 Che ne so io, che idee... Guardare la distanza... Allora, c'è una posa da in posizio tipo... Da stoico, una che guardi nel distanza e un'altra che siamo semplicemente felici. Dimmi te che cazzo testato faccio. C'è una posizione... Ah, ho capito! Questo è il mio! Diciamo che Davia è un personaggio molto espressivo, devo dire. Molto più espressivo di altri personaggi. Non la migliore, perché la migliore espressiva penso sia stata la florina. Che vuoi che faccio? Mo' mi farà, usa tutte le prove. Ma che cazzo! 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 Chi è che ride? Ma è anche vero che Davia c'ha i tacchi, quindi bisogna togliere quel mezzo centimetro di tacchi. Non so quanto sia. Ma quindi Callas era più piccolo, più basso della madre. Ma non c'è tra un cazzo l'ombra. Fai una posa che semplicemente... Non so, ma non so, non so. Ho la foto, ma si dovrebbe farvi fare un po' di attrazione. Si dovrebbe fare una posa! Fai una rispettura che vi riempiono... Oh, se non ci vuole dire qualcosa di che sia un piuttosto che sono per la nazione. Mi ricordata di capire! Mi ricorda di pensare che ho trovato un arresto di Caris. Si, mi ricorda di pensare che era il caso di Caris. Ah, non, era il caso. Il caso è successo che si avrei parlato. Boh, io mi dicevo, è sicuramente bene. Allora, cosa faremo? Ma comunque, cosa si tratta di capire in attrazione? Non ti preoccupare, boss. Non ti preoccupare, boss. Navia! Florent! Eh? Tu... Colta! Si è tornato da Melopide? Ah, ahahah. Ah, ecco. Vabbè? Alla manera, ven. Vengo a vinculari a la parte de, Vengo a la parte de, Vengo a vinculario de una sanguera melissa, Vengo a la parte de... Vengo a la parte de... Uy... Te lo explico. Vengo a la parte de... Esa es un miembro de Spina de Rosla. El miembro de... Como el que me imagino. Este es como Gabriel... Oh? Espera, espera. Espera... El salario del agua de la fonte de la Fonteina... El agua de la Fonteina... ...Y por lo que si te supo... ...y por lo que te supo... Asi que te explico... Sì, prima di cercare di queste due ragazze. Sì, grazie. Sì, sicuramente la ragazza è vero. Pono! 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 Sebbenepple. Sì! Cosa! Ya! Pono! Del mio! Mi amico di Melossi! Come costruire per ora! Ci oppure cosa ciò che faccio solo antes! La dire che avta una spazia molto spazio sia. Cosa! Sì! Scusate Probabilmente Qua sarà che il fatto che lui Diventerà probabilmente Prossimo Membro Ma beh può essere pure che Magari non la prende bene il fatto che Cosa diventa membro Però sinceramente Non voglio semplicemente che Navia possa avere Qualche tipo di common punts Nel senso di Ci ha avuto troppa catarsi Nel momento della storia La cosa del padre stava scoperto Il padre che in realtà gli voleva bene Per salvarla Poi abbiamo scoperto Sta storia Del De coso Come si chiama Abbiamo scoperto La cosa della Purfezia eccetera eccetera Poi se è stata La cosa Ha perso È stata l'alluvione Ha perso Melus e Silver Che erano Praticamente Un'altra di due figure Che praticamente quasi paterne Con famiglia Per lei Che penso sia Al momento che Porco due basta Cioè O gli fai La fai Incazzare Oppure Gli dai un attimo De De Respa Come dice Quel momento in cui dici Oh Per una volta sta andando bene Che poi Che poi Che poi Che poi Loro Che poi La Che poi Romeo Cazzo quindi c'aveva anche un Come si dice Un complice C'è Quindi abbiamo una fazione Diciamo defetta di questa organizzazione Che potrebbe venire a rosso Oh sì Eventualmente è diventato una cosa che ha già spento ogni giorno Che è finito con il Y Cioè tutti giù nella settimana Cioè Monday, Tuesday, tutti giù La madre Era da quella parte Di quella organizzazione che ha difettato Però Quando è stata incinta di lei Poi l'ha lasciato perdere C'è la possibilità che succeda la stessa cosa con lei Se muove adesso Se muove adesso E mi rischi a fare così Questo tizio però guarda caso è tornato adesso Non sapeva nulla Non sapeva nulla Eccetera eccetera Per favore non aggiungete pure un tradimento al peso a stavola ragazza Se spacca Ne la fa più eh Non gliela fa proprio più Penso sia alta Sarà alta quanto Eula Poco di meno Non so E anche Eula c'è di acche Ciao cane Ok Certo Noi giocatori Praticamente Mappa identica Prima Però Cioè Ci sarebbe stato carino Uno switch di qualcosa Dovebbe starci Ecco Ohi Ohi Ok Vuoi andare fino Allora I guard Guard max I cani guard max Vuol dire che cazzo sono quei cosi che corrono Oddio voglio roba nuova di pezzi di storia Voglio roba nuova Sta faccia è solo per darti un drift di qualche tipo Cioè ti diamo qualche personaggio nuovo perché vogliamo darti un personaggio nuovo ma di per sé c'è sta niente di nuovo Beh fiore Allora stec a break Quanto è che stavi in carcere? È che tecnicamente noi non sappiamo mai quanto tempo passa nella storia del gioco, a meno che non c'è stato il momento in cui ti conti quante volte ti dice aspetta il giorno dopo, aspetta il giorno dopo, aspetta due giorni dopo, a meno che non c'è stato quello, tu non sai quanto tempo è passato fisicamente, mi c'è stata possibilità. Alla prossima Per esempio, quando è che c'è la nostra stufa? Che non ce l'hanno ancora data? Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ha detto che non ci potrà mai rendere comunque e reclutare l'organizzazione perché loro non toccano comunque gli avventurieri. E ha detto che anche dopo tutto ciò che è successo i nostri cuori sono interconnessi eccetera eccetera Quanto cazzo mangi? Se l'ha sentito? Però il pe... cioè il... Cristo è Dio. Se tu senti qualcosa, dilla che hai sentito qualcosa. Anche se poi dici vabbè magari ho messo sbagliato. Dai Benamort! Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Allora siamo sotto controllo di qualcuno Allora siamo sotto controllo di qualcuno Allora siamo sotto controllo di qualcuno Allora mi ha pensato per tutti spawnino. Non è buomo si attivo. Lei è rassda Allora di questo Raanno Viando Oh, ho capito! Mi anche vedo? No! No! Oh, perché ti dobbiamo portare? Ehi, quante persone ci abbiamo attresso? Quindi potrei sapere Non penso di aver bisogno Adesso il ruolo del treno No, è veramente potente Un pochino forse la marferanno Non No, è vero E deve tirar fuori Però Però Mi sembra un po' forzata sta cosa